Carrozzeria Padovani Da oltre 50 anni ci siamo presi cura della carrozzeria e dei cristalli della tua auto. Ora ci prendiamo cura anche della manutenzione meccanica e degli pneumatici. Ovviamente con la cura e l'attenzione che da sempre contraddistinguono il marchio Padovani. Carrozzeria Padovani, il salone di bellezza preferito della tua auto, è in corso Lanceria Aosta 9 ad Aosta.